Questo consiglio è imbalanzato, non perché non sono abituato a parlare in pubblico e parlare di combinamenti, ma perché devo cercare di essere istituzionale quando io interisco dire a cuore. Complimenti innanzitutto ai giocatori che vi sono da voi, non solo perché avete vinto, ma perché il vostro comportamento in campo fuori si è stato in linea con i valori della città. Vi chiamate internazionale e Milano vuole essere soprattutto una città creata, moderna e internazionale. Un ringraziamento per la studia Zaglia con cui mi sono messaggiato ieri e che da lontano ha fatto un lavoro straordinario per questa squadra. Un ringraziamento particolare per la capitana, da lontano. Grazie. Un ringraziamento lo faccio non solamente per quello che hai fatto in campo, ma anche per tu essere così milanese. Penso che così è arrivato da lontano, ma per dare questo senso che con la tua famiglia stai così bene a Milano. Un ringraziamento per cui un grazie a tutti voi, la vita da parte del Detti non è un tutto arrivo, quindi l'auspicio mio di tanti milanesi è di vedere presto un ventunesimo che sarà il ventesimo di Milano. Ovviamente dal sindaco di Milano, con i generalisti, ho ancora tre anni da sindaco, se passassero dal diciannove e tettesimo. Scudetto strano, tra intanto oggi, se internazionale. Grazie. 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 Grazie.